e c'è un liceo e c'è un liceo e c'è un liceo aici zice că vin multe tiruri e c'è un liceo Adesso a come ando? C'è un'escritto? Come ando? Come ando? Ciao! considered come ci?! come? Cosa? 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 2 milioni Cosa? 1000 euro per 2 milioni? 2 milioni 590 euro 500 euro 1000 euro per tutti i bambini voucher ora se studia vedem se 온iforme iconani 1 milioni Si potete fare il prezzo? Si potete fare il prezzo? Si potete fare il prezzo? Grazie! Si notiamo il prezzo per sapere quanto costa e la prima compara il compagno di più che abbiamo se faccia il prezzo E' un prezzo 2 milioni 2 milioni in capo per emisiare 571 euro 24 euro 24 euro Si potete fare il prezzo 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 In functio di un costo Un costo di uniforme Mi preferisci Si potete fare il prezzo 20 euro Si potete fare il prezzo Mi piace Si potete fare il prezzo Se potete fare il prezzo 1.66 euro E' un prezzo Ok 1.66 euro 1.66 euro Da, perché è molto più hygienico Ma il modello è un prezzo 2 euro 466 euro 466 euro E' un prezzo 100 euro Ma qui 2 euro 2 euro 5.000 euro 0.66 euro 5.400 euro Non è un prezzo Questo è un prezzo Il prezzo Divino la numero É un prezzo Il prezzo Il prezzo Era in gunga. Era in gunga. Era in gunga. Mi ha detto che non abbiamo nulla, ora andiamo solo sul prezzo. Ok, come questo è. Am ajuns la la fabbrica di cafea, a uscire di cafea per tutti gli uomini. Aperci. Trebuie di questo solo da in exteriore. Si non si le schimbi. Ci sono più complicato. Miroase frumos. Come sei? Grazie. Sono Victor. Victor. Vittor. Vittor. ヴittor. Vittor, Rumania. Questo mi piacera. Quo caccia? Sì. Sì. Sì, come un po' Ah, come un po' ho vinto? Vedi che ho più di più coloro. Non so quali è questo? Non, non, tutto è il po' stesso. È il po' stesso? Si, è molto caro. Un po' di caldo. Vedi che è una piccola grande di un campion. Poi se vuole che fosse più di caldo. Non so, non so. Un po' di caldo. Un po' di caldo. Un po' di caldo. Non so, sì. Mamma, c'è il moaggio, se ha ne sono più, è la mia un po' di caldo. Non, non è un po' di caldo. Non è un po' di caldo. È un peccolo. È il peccolo. Non è un po' di caldo. Pot manca la cazzola? Sì. 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 È un po' di caldo. Un po' di caldo. Quindi è ok? Sì. Possiamo farlo, no? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Ok, è la parte. È la cazza, la cazza non è... Sì? È la cazza che tratta. È la cazza, è la cazza. È la cazza di la mamma. È la aroma. Sì. Sì, 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 sì. Sì, sono un bel occhio che non ci sono. Sì, è vero. Sì, è vero. Ah, grazie. Questo è il supermercato. Ci sono 8,000 toni. Ci sono un po' non mi piace. Ci sono 8,000 toni. Ah, perché c'è la faccia. La faccia è mai scopo per la mara di...